Proviamo a superare questi due anni di pandemia e torniamo con una versione totalmente rinnovata, decisamente più ricca. Abbiamo le nostre conversazioni sulla saggistica, che noi nasciamo come Festival di Saggistica. Abbiamo inserito la poesia, quindi avremo tre serate di poesia all'interno di una biblioteca sociale, quattro serate dedicate al cinema, tempo futuro possibile e sostenibile. Questo è il tema della quinta edizione. Avremo quattro giornate con 38esimo Kids, tutte all'interno del parco archeologico. Avremo delle conversazioni con Nati per Leggere in due scuole di periferia del territorio di Marsala, perché Marsala è una città-territorio. E quindi proviamo in qualche modo a esorcizzare questo tempo. Un festival di fatto poi sarebbe a questo, a fermare un tempo e a darsi in qualche modo un momento per riflettere su quanto abbiamo vissuto. Il tempo è sicuramente quello che ne abbiamo avuto a disposizione tantissimo nei momenti di clausura. E quindi è in qualche modo una riflessione su come poterlo impiegare in questo prossimo quotidiano. Il futuro sicuramente è la cosa per cui tutti noi oggi immaginiamo come poter vivere una dimensione diversa di quello che ci aspetta. La sostenibilità è diventata, ahimè, materia di dibattito politico quotidiano. E quindi sono dei temi che all'interno di un festival che si pone un tempo e dei momenti di riflessione, credo che sia la base per poter in qualche modo mettere un punto e andare oltre. Marsala dal 3 luglio del 2020 è entrata nel circuito delle città che legge ed è stato un titolo insignito dal CEPER, il centro del libro e per la lettura. Marsala ha un patto locale per la lettura, seguendo in qualche modo il dettato della legge nazionale sul riassetto del libro e dell'editoria ed è un patto siglato da oltre 50 sottoscrittori, credo che sia il più ricco della provincia di Trapani. Altresì, la provincia di Trapani ha una peculiarità, ovvero è l'unica provincia in tutta la Sicilia che ha quattro città che hanno ottenuto questo titolo. Successivamente, credo qualche mese fa, è stato siglato un patto intercomunale che ha una ricchezza ulteriore per alzare quella famosa asticella dal basso. Si riparte dalla cultura perché da lì bisogna ripartire, si riparte dai libri perché è dalla cultura di base che tu puoi creare una comunità coesa e consapevole allo stesso tempo.